Il Potenza affidava alla partita con l'Agropoli le possibilità di poter rimanere agganciato al treno delle due squadre che comandano attualmente la classifica del campionato di serie di girone H. Invece alla fine si deve registrare la prima sconfitta interna da parte del Potenza che viene battuta a sorpresa dall'Agropoli, un Agropoli giunto al Curcio di Picerno molto concentrato che ha saputo interpretare nella maniera migliore la partita e alla fine è riuscito a cogliere tre punti molto importanti per la gioia dei tifosi giunti dalla campania nella nostra regione. Una grossa mano all'Agropoli l'ha data sicuramente il portiere del Potenza Sutalo che è stato l'autore involontario del primo grosso infortunio che ha spalancato le porte al vantaggio dell'Agropoli. Si era al 37esimo quando Guarino ha passato indietro il pallone al portiere Sutelo che ha induggiato quell'attimo fatale che è stato importante per il centrocampista di Letta dell'Agropoli che è andato ad aggredire il portiere a pressare il portiere. Il tiro di rinvio del portiere ha sbattuto sul giocatore della formazione campana ed è terminato lentamente nella porta sguarnita per il vantaggio della formazione dell'Agropoli. Reazione da parte del Potenza che ha cercato di subito di pervenire al pareggio dopo che nel corso dei primi 25 minuti della partita aveva sfiorato il gol in diverse circostanze e in queste circostanze era stato bravissimo il portiere della formazione ospite Montella a deviare e a mettere in angolo diverse conclusioni degli attaccanti del Potenza. Nella ripresa il Potenza ha giocato in maniera abbastanza confusa e si è esposta molte volte alle ripartenze micidiali della formazione ospite che è andato al raddoppio con Paviglianiti che è stato bravo a scattare alle spalle dei difensori e a battere con un preciso raso terra il portiere Sutelo per il 2-0. Partita che al 27esimo è stata riaperta per la concessione di un calcio di rigore abbastanza dubbio al Potenza d'opera della signora Garofalo. Si è incaricato del tiro Villa che ha spiazzato il portiere della formazione dell'Agropoli. Il calcio di rigore era stato concesso per un atterramento, per una manata di Ferrara ai danni dell'attaccante del Potenza Apicello. Il Potenza aveva 17 minuti per cercare di rimettere in parità il risultato e è andato vicinissimo solamente in un paio di circostanze. In una di queste Lucchese ha tirato da buona posizione dal limite dell'aria ma il suo tiro ha spiorato il palo alla sinistra del portiere ospite. Quindi clamorosa sconfitta del Potenza e clamorosa è stato anche l'epilogo, il dopo partita che si è registrato nello spogliatoio con tante decisioni che sono state smentite e poi prese da parte della società e soprattutto con la riunione che si è svolta nel corso del dopo partita tra tutta la squadra e la dirigenza del Potenza. In questa riunione è abbastanza concitata. I giocatori hanno esposto tutte le loro lamentere per i gravi problemi che stanno attanagliando il Potenza per la cattiva gestione della società da parte del duo Vertolomo e Vangone. Grazie.